Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle scarpa Golden Gate ATR. So che è una scarpa uscita ormai un annetto e mezzo fa, però ero veramente interessato a provarla perché penso che in questo periodo autunnale, mezza stagione, in cui andiamo verso l'inverno, una scarpa come questa possa veramente essere una buona idea. Detto ciò però, ve la racconto, ne vediamo pregi difetti all'interno della recensione completa. Inizio come al solito parlandovi del peso di queste Golden Gate ATR. Nella taglia 42 pesano 290 grammi, nel mio 47 arriviamo a 355, che comunque è abbastanza leggera per essere una scarpa da trail. Inoltre non c'è solo la versione ATR normale, ma hanno fatto anche la versione GTX da qualche mese, quindi volendo potete prendere anche quella con membrana impermeabile. Detto ciò iniziamo ad analizzarla come al solito dalla suola. Qui troviamo una suola presa, una suola proprietaria di scarpa, che abbiamo già visto su dei modelli principalmente da trekking, ma che qua ritroviamo in una forma abbastanza diversa, sempre con la tassellatura di scarpa pensata per avere i tasselli che ci danno trazione, stabilità e frenata. E cosa non da poco troviamo anche tutta una parte centrale, in cui possiamo vedere che è praticamente liscia, molto simile a una scarpa da strada. Il perché poi ne parliamo dopo. È una suola che mi ha convinto abbastanza, soffre un po' l'umido, il bagnato e anche un po' il fango. Diciamo che è una scarpa abbastanza per l'asciutto, almeno questo modello. Poi non so se sulla versione GTX abbiamo messo una suola un pochino più tassellata, però per il resto, per quanto riguarda strade bianche, fondo anche un pochino sconnesso, si arcava bene davvero, sull'asciutto dà meglio di sé. Ora che abbiamo parlato della suola, passiamo all'intersuola. Abbiamo un'intersuola abbastanza alto, con un drop di 4 mm. Un'intersuola composto in eva, a due diverse densità, di cui la prima densità ci dà modo di avere una scarpa abbastanza rigida e che va a isolarci bene dal terreno, soprattutto per quanto riguarda i sassi, quando passiamo sulle radici. E poi una seconda parte di eva, che invece ci va a dare una buona reattività. Questa scarpa mi è piaciuta. Vi assicuro che grazie alla sua reattività ci si può correre anche su asfalto, su terreno veramente duro e è molto reattiva, cioè non ci farà rimpiangere una scarpa prettamente da strada. E che dire, ha comunque un ottimo cushioning, perché comunque abbiamo 24-28 mm di altezza, quindi ammortizzamento fatto bene. Buona reattività, anche l'intersuola mi ha convinto. Salendo, continuiamo, arriviamo a parlare della tomaia, iniziando dal puntale. È un puntale abbastanza duro, ben strutturato, soprattutto per quello che è pensata la scarpa, quindi promosso. In generale abbiamo una tomaia veramente super leggera. Il materiale è bello resistente, vi assicuro che ce ne ho fatte di ogni e la scarpa non ha nessun punto di rottura, però è veramente traspirante. Vi giuro, con questa scarpa davvero non ci sudate, anzi, forse d'inverno potreste avere il problema di avere magari il piede un po' freddo e vi assicuro che immergendoci il piede all'interno di un ruscello, nell'arco di pochi passi, questa si è asciugata. Davvero super, davvero fenomenale. E poi la tomaia corre per tutta la lunghezza della scarpa e arriva fino al tallone. E visto che ci siamo, parliamo del tallone, un tallone non tanto strutturato, nel senso che è molto morbido, però non è una scarpa pensata per andare a farci cose troppo complicate, quindi ci può stare. È comunque una scarpa, visto che ha questo tallone così morbido, senza una vera e propria imbottitura, se non un piccolo pezzettino all'interno dove ci sta un'imbottitura singola, che io poi andrei a consigliare per persone che comunque hanno una buona struttura, una buona fisionomia, una buona tecnica di corsa, perché diciamo che ci si potrebbe rischiare di prendere qualche storta con una scarpa del genere. Per quanto riguarda la linguetta, invece, possiamo dire che questa non esiste, nel senso che la linguetta c'è, ma è completamente collegata con tutto il resto della scarpa per dare la calzata che oggigiorno si dice a calzino, quindi praticamente non la indossiamo e la scarpa ci sta addosso come un calzino. Però comunque ci sono bene dei lacci, come sapete io i lacci li tiro sempre fortissimo e innanzitutto non si sono rotti, non si è rotto neanche nessun occhiello e soprattutto la linguetta ci isola veramente bene. Ma visto che parlavamo di lacci, vi dico che l'allacciatura è fatta veramente bene, la scarpa sta attaccata al piede molto molto bene, e lavorano veramente egregiamente. Abbiamo inoltre tutta una parte attorno al laccio fatta con materiale termosaldato, quindi anche qua non avremo problemi che potrebbero andare a rompersi in futuro, quindi pensata e realizzata bene secondo me questa scarpa. Infine parliamo della soletta interna, soletta Ortolite, Ortolite io mi sono sempre trovato bene, vi confermo anche con questa scarpa che mi ci trovo bene, non ho dato nessun tipo di problema, il piede non scivola, quindi soletta promossa. Detto ciò, quindi per chi consiglio queste Golden Gate ATR? Secondo me è una scarpa che va bene un po' per tutti, dal corridore più leggero al corridore più pesante, anche se pesate 80-90 kg, questa scarpa andrà bene anche per voi. Va bene per un po' qualsiasi tipo di corridore, nel senso che magari proprio l'amatore che inizia, non proprio. Diciamo da un intermedio fino all'esperto, perché proprio come vi dicevo, il tallone qua non è granché strutturato. Però è una scarpa che secondo me ha molto senso, come dicevo, in questo periodo, perché va a coprire quello che si chiama il Door to Trail. Praticamente noi partiamo da casa magari con queste scarpe, ci facciamo qualche chilometro di asfalto, poi iniziamo un po' di collinare, poi magari per unire un pezzo di collinare all'altro, ci facciamo un chilometro su asfalto, quindi è un'ottima scarpa davvero per passare tra asfalto e trail. Per quanto riguarda il trail, non andate a fare roba troppo complicata, finché sono strade bianche, single track, comunque sentieri molto semplici, va più che bene, evitate sentieri o comunque punti troppo sconnessi. A che velocità ci correrei, ma secondo me queste scarpe vanno bene, sia per farci un lento sui sei chilometri, sia per farci anche qualcosa di più veloce, magari sui 4.30 al chilometro, quindi va bene un po' per tutto, davvero un'ottima scarpa jolly per questi periodi di mezza stagione inverno. Detto ciò ragazzi, io ne ho speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per averla guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!